Altra cosa è cominciare a dire, allora, si tratta di capire dove non è d'accordo Salvini, da Salvini è d'accordo appunto vedi la questione degli immigrati e lì c'è una grande battaglia culturale e politica da fare anche a livello europeo contro le destre e ti schieri da una certa parte contro una certa altra e non stai ad osservare Salvini che tiene al largo 100, 200, 300 persone al freddo, alla fame eccetera eccetera, non ci stai, in questo caso non ci stai e così sono tante altre questioncelle e c'è una scelta, non è chiave destra, non è chiave sinistra, ma ci sono delle scelte precise che non sono quelle di dire siamo per l'ambiente, questo lo dicono tutti, dopodiché non lo fa nessuno, ma per ragioni che lei sa benissimo, perché si tratta di questioni molto delicate, si tratta di combinare esigenze di sviluppo, esigenze di difesa ambientale e gli ci occorrono grandi competenze e scelte politiche anche molto difficili, ma le battute, siamo per l'ambiente, il digitale eccetera eccetera, il digitale, caro Enricchi non è, Salvini non è per l'Italia, il digitale è per l'Italia verde? Allora caro professor Cacciari, capisco diciamo il suo atteggiamento intellettuale, ma qui c'è un governo e il Grigno D l'ha declinato nella manovra economica, se ci sono delle misure che non condivide, specifiche che abbiamo adottato o per lei non sono sufficienti, lo diciamo, apriamo un dibattito. Le dico che su queste misure lei faceva il governo anche con Salvini. Ma non è vero perché... Aspetti Cacciari, lasciamo finire Conte? Non è vero perché io sono, ho derivato da quell'esperienza alcune convinzioni, non c'è una sensibilità come su altri temi che invece vedo in questa nuova esperienza di governo, dove vedo molta più omogeneità, l'ha detto anche lei, tra le forze politiche che sostengono la maggioranza, pur nella diversità delle sensibilità, vedo una maggiore omogeneità. Quando comincerà la fase 2 del governo? Nei prossimi giorni.